Finalmente cominciamo questa grande avventura con investimenti veri. Passiamo dai progetti ai fatti. Allora questo protocollo firmato oggi con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, questo protocollo che ieri ha avuto con la delibera di giunta 4 milioni di investimento regionale, ai quali sommiamo i 9 milioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 13 milioni di euro per i primi 4 grandi interventi che faremo. Li faremo in Cimagrappa, nel Sacralido del Grappa, e recupereremo anche parte della Galleria Vittorio Emanuele, la Via Eroica. Li faremo nel Sacralido di Asiago, 4 milioni di Asiago, 6 milioni di euro in Cimagrappa e poi un milione e mezzo di euro nel Tempio Orsario di Bassano del Grappa e un milione e mezzo di euro nel Sacralido del Montello. 13 milioni di interventi veri, infrastrutture, quindi investimento, quindi recupero di memoria, quindi un lancio culturale per avere un turismo che diventa anche motivo economico di sviluppo del nostro Veneto del futuro.